Musica Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi apriamo con la cronaca che arriva dalla provincia di Vicenza. Una folla commossa oggi ha salutato Semibasso. La cerimonia si è svolta a Tezze sul Brenta. Al campo sportivo erano presenti persone che conoscevano Semmi, ma anche chi se lo porterà nel cuore pur non avendolo mai conosciuto di persona. La sua storia ha toccato un po' tutti noi. Colpito da una malattia rarissima che provoca un invecchiamento precoce di pelle e organi, non ha mai esitato a condividere la sua vita con gli altri e la sua forza ha contribuito a tenere alta l'attenzione sulla ricerca. Le sue parole però hanno anche contribuito a diffondere messaggi positivi sulla vita. Ha scritto Semmi, Io sono grato alla progeria, non la vivo né come una condanna né come una punizione divina. Non cambierei una virgola della mia vita e so il perché. Perché ho avuto la forza di prenderla per quello che è e renderla unica. Tanti messaggi che Semmi ci ha lasciato e che rappresentano un'eredità universale di forza, coraggio e amore. E adesso dobbiamo parlare di un'altra notizia, di un altro fatto gravissimo avvenuto a Padova. Purtroppo non ce l'ha fatta la ragazza di 12 anni che ieri è stata travolta da un treno in città. Sentiamo. La sua vita è rimasta appesa ad un filo, i medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma le condizioni troppo gravi non le hanno permesso di continuare a vivere. È morta la dodicenne che giovedì pomeriggio a Padova è stata travolta da un treno merci. L'incidente, tremendo, si è verificato in via Friburgo, in quei binari dove passano solo con vogli merci. Le sbarre erano abbassate, ma lei si è chinata e ha tentato di attraversare. Pensava di farcela e invece quel gesto l'è costato la vita. Un incidente che lascia sconvolti. Tante le persone che si sono trovate in quella scena terribile, nella quale la gravità delle condizioni della ragazza erano apparse evidenti. Quando sono arrivati i sanitari del 118 era ancora viva e hanno tentato di tutto per riuscire a salvarla, ma è stato inutile. La dinamica dovrà essere ricostruita, intanto ora è il momento del dolore. Il calcio Padova ha preso nel pomeriggio di ieri la notizia relativa alla sentenza di primo grado che riguarda il proprio giocatore Liguori. Il presidente Peghin e l'amministratore delegato Alessandra Bianchi hanno dichiarato che la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda, fin tanto che la giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio. Il giocatore ha riportato una condanna a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale, condanna del Tribunale di Teramo in primo grado. Nella Bellonese è stato ritrovato a terra su un prato il corpo senza vita di un uomo anziano. L'uomo di 77 anni era uscito per una passeggiata senza più fare il rientro a casa. Il soccorso alpino di Feltre ha recuperato la salma. Questa mattina sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La morte potrebbe essere sopraggiunta per un malore fatale. Va all'esame della patente di guida, ma aggredisce l'istruttore quando non passa l'esame. Momenti di tensione a Vicenza, quando un giovane del Mali ha aggredito l'istruttore di guida subito dopo non aver passato l'esame. Il ragazzo era alla guida, ma pare avesse iniziato nonostante il suono indicasse la mancanza della citura di sicurezza in alcuni passeggeri. Ovviamente un comportamento basilare in termini di sicurezza per passare un esame di guida. Il ragazzo che prima di salire in auto aveva anche pregato non l'ha presa affatto bene. La sua brutale reazione ha chiesto addirittura l'intervento delle forze dell'ordine. è stato denunciato. Padova in seguimento a tutta velocità nella notte. I fuggitivi addirittura sono andati contro l'auto della volante della polizia intervenuta. Sentite. In seguimento per le strade di Padova tra polizia e un'auto sospetta con due uomini a bordo. È accaduto la scorsa notte nel quartiere Stanga. La macchina, sospetta che aveva attirato l'attenzione di una volante, ha iniziato una folle fuga da via San Crispino a via Gattamelata. I fuggitivi non hanno esitato a colpire l'auto della polizia distruggendola. Fortunatamente gli agenti sono rimasti illesi e pronti a bloccare i due uomini. Si tratta di due tunisini irregolari sul territorio. Quello alla guida di 27 anni era completamente ubriaco e senza patente. Sono stati accompagnati in questura. Sono stati denunciati per vari reati ed espulsi dal territorio in quanto irregolari. Sono già stati accompagnati al centro per il rimpatrio di Catania. La protezione civile del Comune di Venezia informa che giovedì 17 ottobre con orario indicativo dalle 15.30 e per un'ora sarà effettuata la prova semestrale del sistema di allertamento della popolazione di Marghera in caso di incidenti industriali rilevanti. Il test ha lo scopo di informare la cittadinanza e verificare il corretto funzionamento delle sirene e del relativo sistema di gestione. Le sirene potranno suonare anche ripetutamente. Contemporaneamente a questa prova sarà testato anche il sistema di allertamento del porto commerciale di Marghera. I vigili del fuoco di Cittadella festeggiano 100 anni di istituzione del presidio anti-incendio. È un traguardo importante quello raggiunto dal distaccamento permanente di Cittadella in provincia di Padova. Da un secolo il distaccamento presidia il territorio di Cittadella e anche di altri 20 comuni dell'Alta Padovana a protezione dell'incolumità dei beni e anche dei suoi abitanti. Domenica 13 ottobre le celebrazioni per il centenario del distaccamento. L'evento è stato organizzato dal comando provinciale dei vigili del fuoco con il personale del presidio di Cittadella e in stretta collaborazione con il comune. Alle 9 nella sede del distaccamento che si trova in via Riva del Grappa la presenza di numerose autorità ma anche della cittadinanza verrà deposta una corona d'oro al monumento dei caduti dei vigili del fuoco. Poi seguirà una sfilata e alle 10 sarà celebrata una santa messa. Poi si svolgeranno una serie di iniziative sul territorio. Il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha presieduto questa mattina la prima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il presidente della provincia e sindaco di Padova l'assessore alla sicurezza, il questore, il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri della Guardia di Finanza e è stata analizzata durante questa riunione la situazione dell'ordine della sicurezza pubblica nella provincia insieme appunto ai vertici. Ne è emerso un quadro di grande impegno da parte di tutte le forze di polizia coadiuvate dalla polizia locale. L'importante impiego di risorse da parte degli attori del comparto sicurezza si è concretizzato in numerose attività straordinarie di controllo svolte su tutto il territorio della provincia sia in modalità autonome che in modalità interforze. Nei primi mesi del 2024 si sono registrati ben 378 attività di controllo straordinario del territorio, 219 delle quali nel solo comune capoluogo, specialmente nelle aree vicino alla stazione di Padova e nei luoghi della Movida Estiva. E adesso ci spostiamo, andiamo a Mestre, cambio ai vertici dei lagunari. Il colonnello Falasca dopo due anni lascia il comando del reggimento serenissima al colonnello Corina. Vediamo alcuni momenti. Cambio della guardia ai vertici del reggimento lagunari serenissima di Mestre. Si è svolta la cerimonia ufficiale di avvicendamento al comando del reggimento tra il colonnello Ivan Falasca, cedente, e il colonnello Leandro Corina, subentrante. Presenti con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, accompagnato dall'assessore comunale Laura Besio, numerose autorità civili e militari, nonché le rappresentanze delle associazioni combattentistiche ed arma. Il colonnello Corina è nato a Pistoia nel 1976 da una famiglia con tradizioni militari ed è entrato a far parte del reggimento lagunari serenissima nel 2002. Nel corso del suo servizio è stato impiegato anche in diverse operazioni fuori area. Guida sicura in provincia di Treviso si è svolto oggi al Sant'Artemio il Drive Camp, un progetto di sicurezza stradale organizzato dalla provincia in collaborazione con il Tavolo per la Sicurezza Stradale, la Prefettura, l'Uls2, marca trevigiana, il Comune e gli uffici scolastici e vari enti del territorio. L'appuntamento dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori aveva l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui possibili rischi alla guida di un mezzo attraverso la simulazione di incidenti reali, fornendo inoltre linee guida e consigli pratici su come prevenire un sinistro e affrontare situazioni di pericolo. Non solo, oltre alla spiegazione delle dinamiche di un incidente, sono state affrontate con i ragazzi anche i temi degli effetti psicologici post-incidente, della percezione del rischio e dei servizi a supporto di chi purtroppo resta coinvolto in un incidente. E adesso l'appuntamento è con la rubrica di approfondimento e allora diamo subito alla linea e salutiamo Marisa Sottovia, esperta di storia. Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo dei Musei Vaticani, un patrimonio di arte antica e moderna, il più importante al mondo. E allora conosciamo la loro storia. I Musei Vaticani si trovano a città del Vaticano, cuore della Chiesa Cattolica. Furono fondati dal Papa Giulio II nel 1506, quando vi trasferì la sua collezione di opere, ma contengono anche opere di altri papi accumulati nel corso del tempo. Sono chiamati al plurale musei perché sono un insieme di musei appunto che sono ospitati nei palazzi rinascimentali e comprendono la Pinacoteca Vaticana, che contiene opere come quelle del Caravaggio, Ciotto, Leonardo e anche Raffaello. Poi ancora abbiamo il Museo Pio Cristiano, con opere di arte paleocristiana. Il Museo Pio Clementino, fondato dal Papa Clemente XIV nel 1771. Andiamo al Museo Gregoriano, Egizio ed Etrusco. E ancora troviamo le bellissime gallerie e le cappelle, ma la cappella più importante è la Cappella Sistina, realizzata tra il 1478 e il 1481, all'epoca in cui c'era il Papa Sisto IV, da cui prende il nome. Questa cappella è dedicata a Santa Maria Assunta. Le pareti, molto belle, sono appunto affrescate da pittori e artisti famosi, quali i Botticelli, l'irlandaio, poi ancora il pinturicchio e anche il perugino. La volta invece è stata realizzata da Michelangelo Buonarotti e in questa volta troviamo il giudizio universale ed è rappresentata anche la storia delle Genesi. In questa volta Michelangelo vi lavorò per dieci anni. Poi ancora troviamo le famose stanze di Raffaello, quattro stanze, ma la più significativa è la stanza della signatura, dove Raffaello, pittore Orbinate, vi rappresentò i quattro saperi, dalla filosofia alla giustizia alla poesia e poi alla teologia. I musei ospitano collezioni, come abbiamo detto, dell'arte antica, dell'arte moderna, ma anche contemporanea, per desiderio del Papa Paolo VI nel 1973, perché voleva un dialogo tra la Chiesa e la comunità. Quindi si tratta veramente di musei che contengono un patrimonio immenso, che appunto ci vorrebbe tanto tempo per dare descrizione, ma solo una visita può dare l'idea della vastità di tali musei e della loro bellezza. Grazie a Marisa Sottovia per l'appuntamento dedicato alla storia e colgo l'occasione per ricordare che tutti i nostri servizi e anche gli appuntamenti con la storia restano nel nostro canale YouTube Telecittà Official Channel e anche nella nostra pagina Facebook. Uno sguardo alle condizioni climatiche. Da domani si rinforzerà sul Veneto un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo che determinerà tempo stabile, ma con condizioni favorevoli alla formazione di foschie e nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde della giornata. Si chiude questo spazio dedicato alle ultime notizie, ai fatti dal Veneto. Come sempre a tutti voi, grazie per essere rimasti sintonizzati su Telecittà. Tra poco ancora informazione a cura di Talpress. Buon proseguimento. Grazie a tutti.